Lo sport di base all'Aquila lancia un grido di allarme per il caro energia. Anche le società sportive sono in crisi, costi per le piscine ad esempio sono diventati insostenibili, considerando anche le chiusure per Covid. Per molti gestori non si intravede a luce e se non ci saranno cambiamenti o aiuti, si rischia davvero di chiudere. Del resto all'Aquila, all'inverno, i costi già aumentano di per sé, figurarsi con questi aumenti. A tal proposito, l'SD United L'Aquila, una squadra di calcio dilettantistico impegnata nel sociale e che ha come fine l'integrazione, avendo in squadra molti ragazzi stranieri, chiede che si giochi una vera e propria partita per salvare lo sport di base. I costi già alti per le piccole società, che già fanno fatica a tenersi in piedi, si alzeranno ancora, le famiglie come le attività ne risentiranno, ma lo sport di base è vita. Così lo United chiede alla Regione e alle altre istituzioni di entrare in campo e aiutare anche le realtà più piccole, che poi sono quelle che veramente tengono in piedi tutto il movimento. È importante che sul territorio esista un movimento calcistico, sportivo di base ed è chiaro che queste basi sono sul volontariato, sull'associazionismo, sulla voglia di fare sport e la possibilità che si dà ai ragazzi e alle famiglie di far fare sport ai figli e a loro direttamente. Il discorso è che se la crisi energetica coinvolge anche i gestori, le strutture, le poche strutture sono sul territorio e quindi aumenteranno i costi. Chiaramente le società non riusciranno, i gestori per primi a cascare le società e infine appunto gli associati, le famiglie non riusciranno più a sostenerli e quindi questo andrà a incidere proprio sulla pratica sportiva, sull'accesso allo sport e alle strutture che ci sono in città. Per questo abbiamo pensato un attimo di porci, di far uscire come protagonisti, come attori dello sport appunto questa tematica perché ne siamo direttamente coinvolti come altre società, credo che appunto dicendolo insieme, rivolgendoci alle istituzioni, ai governi, locale, regionale, nazionale appunto si debba fare qualcosa ad aiutare effettivamente lo sport, soprattutto quello di base perché poi è lì che appunto si coinvolge il territorio e si ha accesso alla pratica sportiva.